Io non so più che fare, sono disperata, perché il paradosso è che per entrare al lavoro io devo pagare tre tamponi a settimana. Io sono trattata la stessa stregua dei Novax, io sono stata vaccinata presto come insegnante, io mi sono vaccinata, anzi forse loro sono più considerati di noi, perché almeno si sa che esistono. E noi non esistiamo, noi siamo un popolo di invisibili, prigionieri di questo Green Pass e veramente disperati. Il mio outcode risultava non valido. Sono andata alla regione e alla regione io sono andata sei volte alla regione. Però dicevano no, no, vada al ministero, perché noi se abbiamo dato il certificato la colpa è, cioè diciamo vada, il ministero è il ministero che deve dare il Green Pass. Bene, vado al ministero e l'impiegato mi dice, digita tutti i miei dati qua e là e dice no, guardi che lei qui non risulta, è la regione che deve inviarci i nostri dati. Io adesso però sia tranquilla che invierò i suoi dati, invierò una mail alla regione con i suoi dati corretti. Bene, questo è successo i primi di agosto e io ad oggi non ho niente. Ho chiamato due volte il 1500, ho chiamato l'assessorato alla sanità, poi ho scritto all'assessorato inviando il mio certificato vaccinale, ho inviato mail a Sileri Costa alla difesa, oggi ho inviato due PEC, una al ministero e una alla regione, oggi ho telefonato all'ufficio relazioni col pubblico della regione che ha ripreso nuovamente i miei dati. Io non so più che fare, sono disperata, perché il paradosso è che per entrare al lavoro io devo pagare tre tamponi a settimana. È assurda questa cosa, veramente, è un paradosso, sembra uno scherzo, ma invece è una tristissima realtà. Io non sento qualche ministro o qualcuno che dica, o alla regione o al ministero, qualcuno che dica va bene, diamo una deroga, una deroga per dire un pass provvisorio, una certificazione, un qualche cosa rilasciato dalla regione o dal ministero che ci possa permettere di vivere e di lavorare in santa pace. Ecco questo.